La difficoltà è pari o superiore a svuotare una piscina colma d'acqua aiutandosi con un bicchiere. Un blitz prolungato e in forze dei carabinieri nel quartiere Piave di Mestre ha interessato mercoledì l'area più delicata della città dove spaccio e microcriminalità hanno preso sempre più spazio nel corso degli anni. 60 militari sono stati messi in campo ininterrottamente per 8 ore fino a notte inoltrata. Hanno pattugliato il quartiere sia in divisa che in borghese, a piedi o a bordo di gazzelle furgoni, agendo come a gran voce chiedono residenti e commercianti estenuati dal peggioramento delle condizioni di vita che fra l'altro si sono allargate sempre di più ad altre zone cittadine. Prevenzione e repressione dell'illegalità faceva sperare probabilmente in dati più corposi fra arresti e sequestri di stupefacenti. Il personale del Comando Provinciale di Venezia, supportato dalla componente mobile del 4 Battaglione Carabinieri Veneto e da un elicottero del 14esimo Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Belluno, ha controllato 76 persone, 42 veicoli e 4 esercizi pubblici a carattere etnico, oltre ad appartamenti adibiti a bed and breakfast e piccoli hotel che hanno una grande densità per l'avvicinanza dalla stazione ferroviaria. L'elicottero sorvolava Mestre per supportare il lavoro dei colleghi a terra ed evitare possibili tentativi di fuga di qualche fermato. I controlli hanno portato a 4 violazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti e altrettanti assuntori, oltre al rivenimento di vari involucri contenenti droga. L'operazione rientra in una serie di interventi disposti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinato dal prefetto Michele Di Bari e diretto dal questore Gaetano Bonaccorso. Il personale impiegato è in tre forze, l'obiettivo è rendere più frequenti interventi di disturbo alla massiccia azione degli spacciatori, presenti in zona praticamente a tutte le ore del giorno e della notte. Altri blitz, legati invece ai loro fornitori, hanno portato risultati numerici più impattanti legati ai sequestri di droga e all'allontanamento e talvolta rimpatrio dei pregiudicati. Grazie. 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 Grazie.